La sagra del mandorle in fiore 2013 alla fine, anche se in tono minore, si farà. Il sindaco Marco Zambuto ha deciso così, anche per non fare perdere le tradizioni a cui gli agrigentini sono molto legati. È chiaro che a disposizione ci sono pochi soldi, ci saranno rispetto al passato meno gruppi folcloristici e meno bande. La mano d'aiuto, o meglio dire una parte, dei soldi per la manifestazione arriveranno dall'ente parco archeologico di Agrigento, che anticiperà le somme che spettano al comune per i ticket che pagano i turisti per visitare la Valle dei Templi. Ora bisognerà bruciare i tempi per rispettare la data del 3 febbraio. Saranno coinvolti tutti i gruppi folk locali e potrebbe alla fine pure partecipare lo storico gruppo folk agrigentino Valdagragas. Visto che si è espresso in merito nei giorni scorsi il suo presidente Lello Casesa, Sarà rispettato il programma con l'accensione del tripode il martedì, la fiaccolata dell'amicizia il mercoledì e il festival internazionale dei bambini del mondo, il cui programma è pronto da tempo.